Buonasera e benvenuti all'edizione serale del nostro telegiornale che apriamo parlando del terremoto giudiziario che si è battuto sulla comune di Catania nei giorni scorsi. Sono iniziati oggi e proseguiranno domani gli interrogatori di garanzia degli indagati. Sentiamo nei particolari. Orazio Stefano Fazio, direttore dell'esecuzione dei servizi di igiene urbana e ambientale del comune di Catania, ha risposto alle domande del GIP. L'uomo è stato arrestato per la turbata libertà degli incanti e corruzione. Fazio è difeso dall'avvocato Francesco Siracusano, che lo ha descritto come millantatore, che combinava sanzioni per le irregolarità ma incassava i regali dell'imprenditore che credeva di aver ricevuto dei favori. Prodotta anche al GIP la documentazione delle sanzioni combinate per disservizi da giugno ed ottobre del 2017, che ammonterebbero ad oltre 150 mila euro. Fazio sarà interrogato ancora dal PM domani pomeriggio. Si è invece avvalso della facoltà di non rispondere il ragioniere generale della comune di Catania Massimo Rosso, interdetto per un anno dai pubblici uffici, accusato di corruzione contraria ai propri doveri. Secondo l'accusa, tra i regali ricevuti dagli indagati ci sono smartphone e computer portatile di ultimissima generazione, oltre a viaggi di piacere, l'affitto di una casa a Roma per le figlie universitarie della ragioniere comunale e l'assunzione a tempo indeterminato in aziende private dei loro fidanzati, nell'ambito della stessa inchiesta. Sono finiti in carcere l'imprenditore romano Antonio Deodati, di 56 anni, interrogato per arrogatori nella capitale, mentre si trova agli arresti domicilari Antonio Natoli, 46 anni, dipendente del Consorzio Seneco, indagato per corruzione. Le costituzioni di parte civile hanno caratterizzato la prima udienza del processo all'editore Mario Ciancio, accusato di concorso esterno all'associazione mafiosa. Dopo l'udienza di oggi sono cinque le parti civile ammesse. I fratelli Montana, Sassi, Impresa e l'Ordine dei giornalisti si erano già costituiti all'udienza preliminare. Oggi il giudice ha ammesso l'associazione Libera e il Comune di Catania, unico escluso dal dibattimento del comitato No Pua. L'accusa rappresentata dal PM Antonio Fanare, Agata Santorocito, dal procuratore aggiunto Francesco Puleio, ha presentato al Tribunale una lista di quasi 100 testi tra imprenditori, giornalisti e collaboratori di giustizia dell'area palermitana e catanese di Cosa Nostra. Tra questi gli imprenditori Maltauro e Bissole per il caso Pua e Mariano Incarbone, condannato nel processo Iblis. La procura ha anche chiesto una perizia per la trascrizione di decine di intercettazioni che vedono protagonista l'editore catanese. Il difensore di Mario Ciancio, l'avvocato Carmelo Peruso, ha citato come testimone, oltre a numerosi imprenditori, anche il sindaco di Catania, Enzo Bianco. Il processo è stato rinviato alla prossima 10 di aprile. Adesso apriamo la pagina dedicata alle vertenze di lavoro, ma torneremo più tardi in cronaca giudiziaria. Il primo cittadino etneo Enzo Bianco ha ricevuto stamattina i 105 precari dell'ambito rifiuti. Sentiamo Daniela Cantarella. La dichiarazione che io rendo adesso è fatta dalle organizzazioni sindacali CGL, CISL, UGL, UGL, USB e Confsal Snalve, che erano al tavolo col sindaco di Catania oggi. Noi ringraziamo il sindaco di Catania per la riunione interlocutoria di oggi, che però è molto importante. Il sindaco ha ribadito l'impegno totale dell'amministrazione comunale per dare una soluzione all'avvertenza dei 105 lavoratori precari. Il sindaco ha assunto un impegno nuovo. Arriva dopo quasi due ore di attesa e sit-in davanti il palazzo comunale di Catania, il resoconto della riunione tra i rappresentanti sindacali di CGL, CISL, UGL, UGL, USB e Confsal e il primo cittadino del capologo etneo Enzo Bianco, in merito alla spinosa questione dei 105 lavoratori del bacino prefettizio igiene ambientale. Dopo la giornata bollente di ieri, quando gli operai in lista da ben quattro anni hanno bloccato la circolazione stradale dei quattro canti e incontrato il presidente siciliano Nello Musumeci, oggi sembra finalmente aprirsi uno spiraglio per l'assunzione dei lavoratori ex dipendenti di Cesame, Multiservizi, ex Solco, IPI e OICOS accolti nel bacino prefettizio dal 2005 in poi. L'accordo raggiunto quattro anni fa tra prefetto, il sindaco Bianco e le associazioni sindacali prevede una lista contenente i 105 lavoratori che avrebbero dovuto avere priorità nelle assunzioni in base alle diverse mansioni richieste. Evento finora mai capitato oggi qualcosa forse potrebbe muoversi, come ha promesso il sindaco Bianco che si è impegnato a mettere in campo una trattativa negoziata con tutte le aziende in regola per la pulizia di Catania, considerando l'assunzione di tutti i 105 lavoratori. Siccome il giorno 29 marzo scade la gara con queste aziende, se i commissari non si assumeranno il peso di continuare la pulizia della città di Catania e quindi di dare una soluzione alle aspettative occupazionali dei lavoratori, il sindaco metterà in campo autorizzato già dall'ANAC una licitazione privata, una trattativa negoziata con tutte le aziende della white list, quindi tutte quelle in regola con la certificazione antimafia, per la pulizia di Catania e lo farà mettendo all'interno della trattativa tutti i 105 lavoratori. Questa è una svolta molto importante per noi, siamo in attesa che ci sia anche la riunione in prefettura, ma oggi registriamo un'apertura nuova e molto importante che il sindaco ha anche ribadito per la gara settennale sulla quale si terrà una riunione in settimana prossima al comune con le organizzazioni sindacali. Io dico riniziare un nuovo ragionamento di servizio nelle città di Catania che non sia limitato esclusivamente alle zone come noi la conosciamo, ma che possa rilanciarlo per tutti i cittadini catanesi, da un lato il cittadino che rivendica il servizio, un buon servizio, dall'altro lato i cittadini catanesi anch'essi che vogliono partecipare con la propria attività lavorativa e fino ad oggi li hanno proibiti. Altra protesta di lavoro a quello che riguarda i dipendenti di Sostare, stamattina sit-in nel capoluogo Etneo. Ancora Cantarella. Incrociano le braccia i dipendenti della Sostare di Catania in piazza Università per diverse ore dalle 9 di questa mattina in occasione di un sit-in organizzato dalle segreterie provinciali di Filcamps CGL, Fisascat CISL, Will Trasporti e UGL Terziario. Alla base dello sciopero i disagi provocati dal ritardo con cui l'organismo di controllo analogo del comune di Catania sta affrontando la richiesta della società di sottoscrivere un contratto di secondo livello mirato a regolamentare gli istituti di reperibilità e premio di risultato non erogato quest'ultimo da ben sei anni. Chiedono inoltre le 36 ore lavorative i dipendenti preoccupati per le future pensioni e che attualmente lavorano 5 ore e mezzo al giorno con contratto part-time. Nonostante il sollecito inviato dalla società Sostare lo scorso gennaio, affermano i sindacati, a tutt'oggi non è stato ricevuto alcun riscontro. In sit-in da questa mattina in piazza Università cosa chiedete? I lavoratori di Sostare chiedono che finalmente venga firmato questo benedetto accordo sul controllo analogo. Noi da tempo con l'azienda Sostare, un'azienda ricordo che è forse l'unica partecipata in attivo del comune di Catania, abbiamo fatto una contrattazione di secondo livello dove all'interno abbiamo messo anche degli istituti del contratto di base, quale la reperibilità e giustamente il presidente Blasi rispettoso delle regole ha posto ai funzionari del controllo analogo dell'amministrazione comunale il parere positivo o meno, parere che a tutt'oggi non viene dato a Sostare. Pertanto siamo fermi, siamo in una fase di stallo, non si riesce ad applicare la contrattazione di secondo livello nemmeno l'istituto della reperibilità. Pertanto oggi siamo qui a sensibilizzare i funzionari che ricordo che sono tra i niti Andò e Rosso. Forse qualcuno oggi attualmente non è più in carica, però è chiaro che noi non ci possiamo fermare su queste vicende. Per cui chiediamo un sollecito all'amministrazione comunale di farsi carico di questa situazione di stallo che stanno subendo purtroppo i lavoratori di Sostare. Adesso dove state andando? Adesso stiamo cercando, dato che nessuno ci sta ricevendo perché so che ci sono altre sit-in, altre azioni di protesta, stiamo cercando di poter parlare con l'assessore alle partecipate per avere una risposta. Perché è chiaro che se oggi non abbiamo una risposta procederemo con ulteriori azioni di lotta proclamando anche uno sciopero con il blocco degli stalli di Sostare. E sempre nell'ambito delle vertenze di lavoro non ci sono ancora soluzioni definitive per quel che riguarda la vertenza dell'Espurgo Pozzineri. Un argomento del quale ci siamo già ampiamente occupati nei giorni scorsi. Vediamo a che punto è questa ulteriore vertenza lavorativa. Ancora sentiamo il servizio di Filippo Romeo. Nonostante l'incontro interlocutorio di ieri tenutosi nel Palazzo dell'Esa a Catania, la protesta delle vite di Espurgo Pozzineri della provincia etnea rischia di trasformarsi in emergenza sanitaria. Sono tante le situazioni che rischiano di esplodere, con numerose fosse settiche ormai al tracollo, in condomini, ma anche in ospedali e centri commerciali. Proposta dai vertici della Sidra riuniti ieri assieme ai rappresentanti di categoria dal presidente della regione Musumeci una fase transitoria in attesa di definire la qualità dei liquami da trattare, predisposto anche un nuovo regolamento di cui però ancora non si conosce il contenuto. Non ci stanno gli imprenditori, 19 le imprese che danno lavoro a 70 dipendenti, fermi da quasi un mese. Resta l'agitazione in attesa, si legge in un comunicato della Conf Commercio che annuncia una conferenza stampa per domani di soluzioni accettabili. Finalmente abbiamo avuto un interlocutore, in questo caso il presidente della regione, l'assessore regionale Piero Bon e il dottore Cocina. Ma chiaramente la situazione rimane una situazione di stallo. Noi ancora allo Stato continuiamo il fermo a oltranza, anche perché abbiamo la notizia del regolamento che porrà la Sidra, ma non sappiamo i contenuti e quindi quello che sostanzialmente sarà la nuova disciplina per accedere a Pantano Darci. Attualmente la situazione qual è? Non si può accedere a Pantano Darci? A Pantano Darci si può accedere ma con delle limitazioni. Limitazioni che non consentono ai lavoratori di poter svolgere con regolarità il proprio ruolo, ovvero quello di non solo eliminare le emergenze dove queste si formano, ma anche di poter manutentare costantemente quelle che sono le forze settiche. Torniamo alla cronaca giudiziaria. L'avvocato Enzo Millia, difensore dell'ex sindaco di Acirale Roberto Barbagallo, stamattina ha chiesto e ottenuto un rinvio dell'udienza del Tribunale di Riesame che dovrà decidere sull'istanza di scarcerazione presentata alla stessa difesa a seguito del diniego posto dalla giudice per l'indagine preliminare Giovanni Cariolo, come si legge sul sito L'Urlo. Barbagallo è in carcere dallo scorso 23 febbraio con l'accusa di concorso di induzione in debita a dare o promettere utilità. Secondo la difesa il fascicolo è voluminoso e necessita di tempo per uno studio serio e completo. Nei giorni scorsi, dice ancora l'Urlo, sono stati sentiti alla Procura della Repubblica altri nuovi imprenditori che operano da Acirale. Non è escluso quindi che il fascicolo si sia allargato e che ci siano nuovi elementi. Ad essere sentiti anche gli imprenditori che hanno realizzato il nuovo parco WEC nell'area di Arci Platani, che ancora non è entrato in funzione a causa di ripetuta sospensione dei lavori, una nuova udienza è stata fissata per il prossimo 27 marzo. Sempre per la giudiziaria è slettata la 19 giugno prossima alla prima udienza del processo all'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo e al figlio Toti accusati di reati elettorali assieme ad altri tre imputati Ernesto Priviterra, Angelo Marino e Giuseppe Giuffrida. Il procedimento è stato nuovamente incardinato dopo che la Procura della Repubblica ha fatto ricorso alla sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale monocratico presieduto da Laura Benanti. Per le procure padre e figlio Lombardo avrebbero promesso due posti di lavoro in cambio di voti in favore di Toti eletto con 9.633 preferenze nella lista dell'MPA alla regionale dell'ottobre del 2012. A dare il via all'inchiesta erano state delle dichiarazioni di alcuni pentiti. Cambiamo argomento ma restiamo a Catania, immobilismo per quel che riguarda la Crias con una situazione che potrebbe avere delle pericolose ripercussioni. Sentiamo Daniela Cantarella. Puntano il dito contro la regione CNA, Confartigianato, Casa Artigiani e Clai di Catania che denunciano l'immobilismo a cui è costretta da gennaio la Crias, Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane. Nonostante i 20 milioni di euro pronti ad essere erogati, denunciano le associazioni, la Crias è paralizzata condannando al fallimento numerose imprese. Una paralisi spiegano le organizzazioni degli artigiani, frutto di un percorso amministrativo avviato dal governo Crocetta che sacrificò in favore di un ipotetico pareggio dei conti i patrimoni di società partecipate e di enti regionali tra cui la Crias, punto di riferimento fondamentale per le imprese a cui negli anni ha erogato complessivamente oltre 4 miliardi di euro, come spiega il segretario della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Catania, Andrea Milazzo. Voi avete lanciato un allarme. Crias è costretta all'immobilismo e molte aziende condannate alla chiusura. Perché? Cosa vuol dire? In questi giorni è successo questo. Una delibera di giunta del 9 febbraio ha completato un iter amministrativo iniziato dal governo Crocetta che di fatto ha ricondotto il fondo di rotazione della Crias che aiuta e finanzia le imprese artigiane alle casse regionali. L'ha equiparato un organismo strumentale della regione. Questo tecnicamente ha bloccato la possibilità per la Crias di erogare i fondi a favore delle aziende, fondi che normalmente le imprese sfruttano per avere liquidità o per fare investimenti escorte e costringe tale atto la Crias a passare da un sistema amministrativo contabile di natura privatistico, civilistico, cosa fatta per circa 60 anni, ad un regime di natura pubblicistico. Oggi la Cassa non ha né le adeguate strumentazioni né le adeguate competenze. Questo determina di fatto un blocco per cui le richieste di finanziamento dei nostri artigiani restano bloccate. E cosa proponete? Qual è la soluzione? Noi chiediamo una soluzione di emergenza, quindi o per disporre un periodo transitorio per cui la Crias possa tornare a operare col vecchio sistema e nel frattempo si adegua ai nuovi sistemi contabili o probabilmente la soluzione migliore sarebbe quella di revocare la delibera almeno per quanto riguarda la competenza della Crias. Da tempo si vocifera di un accorpamento del Crias con le casse di aiuto. Lei cosa ne pensa? Noi siamo preoccupati di questa ipotesi. Crediamo infatti che fondere la Crias con gli altri fondi di aiuto alle imprese determini poi la creazione di un unico istituto bancario regionale che diventerebbe ora di fatto banca, cioè andrebbe a operare valutando nel merito creditizio come fanno oggi le banche, normalmente ciò avviene a documento delle piccole aziende, cioè rischieremmo il paradosso di avere dei fondi che non potrebbero poi essere sfruttate dalle aziende. Parliamo adesso di ritardi aerei, voli tra Catania e Roma in ritardo interviene nell'unione dei consumatori, sono state circa 4 ore di ritardo accumulate dall'avvolo di ieri 19 marzo Catania a Roma. Il decollo era previsto alle 9.10 dall'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania a Fontana Rossa con atterraggio a Roma e Fiumicino alle 10.40, invece il volo è atterrato nella capitale alle 14.32, accumulando ritardo pari a 3 ore e 52 minuti. Il ritardo analogo è toccato anche all'avvolo di ritorno, il Welling Roma-Catania delle 8.25 che ha accumulato un ritardo all'arrivo pari a 3 ore e 45 minuti. La Sicilia è spesso penalizzata da strutture e mezzi non adeguati, siamo spesso costretti a registrare la mentale dei nostri utenti per ritardi nei collegamenti aerei, ha detto in una nota Maglio Arnone, presidente dell'Unione dei Consumatori. Come associazione abbiamo deciso di potenziare le nostre risorse umane a disposizione di chi ha subito o subirà disagi. Ricordiamo che per i voli annullati o per quelli con noterlo in ritardo c'è la possibilità di ottenere un rimborso del biglietto o ancora un indennizzo per il disagio patito. E adesso una buona notizia per un'impresa cooperativa siciliana che ha ottenuto l'importante riconoscimento. La Sisifo Cooperative Sociali per il secondo anno consecutivo ha ottenuto una menzione speciale per il miglior bilancio sociale. Ad averla conferita è l'Associazione Italiana Revisori Legali dell'Economia Sociale che a Bologna ha omaggiato il presidente di Sisifo, Mimo Arena, riconoscendo nel consorzio specializzato in servizi riabilitativi, cure domiciliari, assistenza geriatrica ai malati oncologici terminali, asili nido, dei surgery e assistenza educativa, un fiore all'occhiello siciliano da Forlì in giù. Il consorzio Sisifo è una realtà che nasce nel 99, ha 22 cooperative associate, cooperative storiche, tutte insieme fanno oltre 300 anni di storia. Noi facciamo ospedale a domicilio, facciamo cure domiciliari, adi oncologica, si può avere malati oncologici terminali anche per soggetti geriatrici, abbiamo assistito l'anno scorso oltre 22 mila pazienti, oltre 1 milione e 200 mila prestazioni, abbiamo circa 1.700 occupati. Siamo stati premiati da Arces che è un soggetto giuridico che afferisce al mondo della lega delle cooperative e per il secondo anno consecutivo abbiamo ricevuto un premio, unica in realtà del Sud Italia, da Forlì in giù siamo gli unici a redigere un bilancio sociale, ma non è solo per la questione territoriale, è perché loro comunque hanno apprezzato anche la modalità e il bilancio stesso. Per noi è sicuramente un modo di soddisfazione, perché se dopo tutte le cooperative emiliane c'è anche Sisifo, sicuramente vuole dire che un pezzo di lavoro è stato fatto bene anche al Sud Italia. Parliamo adesso di ospedali, buone notizie per il nosocomio di Giarre, dopo un periodo abbastanza buio con tante proteste per quel che riguarda il nosocomio giarrese, adesso si potrebbero aprire importanti prospettive, almeno a sentire il nuovo assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza. Sentiamo tutto nello specifico. Scelta scellerata, quella di chiudere il pronto soccorso dell'ospedale di Giarre, ammette l'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza, decisione afferente alla scorsa legislatura e con la quale oggi è necessario confrontarsi. Pochi giorni fa, oltre 3.000 studenti scesero in piazza per manifestare il disagio di una intera comunità, costretta a girovagare per le intassate strade della provincia, nella speranza di raggiungere in tempo il già caotico pronto soccorso dell'ospedale di Acireale. E non si parla solo di Giarre quando si fa riferimento all'ospedale di via Forlanini, ma dei tanti comuni vicini e più o meno prossimi che facevano riferimento al pronto soccorso giarrese e che oggi convergono su Acireale. Insomma, il cane che si morde la coda, si direbbe parafrasando, se non fossero in gioco le vite dei pazienti, di chi ha bisogno di interventi, di emergenza e che per raggiungere Acireale, partendo ad esempio da lingua glossa, impiega non meno di mezz'ora, una eternità. Non di solo pronto soccorso si tratta, ma anche della rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero, che dalle parti di Giarre, al di là delle buone intenzioni, molti vedono solo come una specie di ambulatorio. Insomma, l'ospedale di Giarre non può uscire di certo fuori dall'agenda del nuovo governo regionale, che dal novembre scorso ha nelle mani il pallino del gioco. Sanno i cittadini di Giarre e del comprensorio che si sconta una decisione scellerata, che è stata però approvata dalla regione siciliana nella scorsa legislatura e quindi con lo scorso governo. La prima cosa che l'assessore alla salute poteva fare è quello di chiedere la revisione della rete ospedaliera. Su questo stiamo lavorando in maniera intensa ed intanto mi fa piacere pensare, non è stato sottolineato per Garbo, che un investimento di quasi 5 milioni di euro è stato proposto al nucleo investimenti del Ministero della Salute e riguarda proprio l'ospedale di Giarre. Abbiamo bisogno, lo scalino temporale che ci separa dal 30 giugno 2018, per essere presenti al tavolo nazionale del Ministero con una proposta di rete ospedaliera nella quale ovviamente ci occuperemo di Giarre. Corsa contro il tempo per l'approvazione di bilancio e finanziario. La conferenza dei capigruppi a Lars ha stabilito il calendario della sessione che prevede tempi strettissimi per concludere l'esame dei documenti finanziari entro il prossimo 31 marzo. Se il governo rispetterà i tempi per la presentazione di bilancio e finanziario entro questa settimana, la Commissione parlamentare di merito dovranno ultimare l'esame entro il 26 marzo. La Commissione bilancio si legge in una nota della conferenza dei capigruppo, dovrà esitare per l'aula i documenti in data utile perché l'Assemblea possa avviare la discussione a partire dal 28 marzo e concludere l'esame entro non oltre il 31 di questo mese, scadenza dell'esercizio provvisorio. E adesso andiamo a Calatabbiano dove un'intera comunità si è mobilitata contro la chiusura di un'istituzione storica per quel paese, cioè l'Istituto Sacro Cuore. È andato per noi. Mario Grasso. 104 anni di storia non possono essere cancellati con un colpo di spugna. Calatabbiano nel Catanese si mobilita perché le figlie di Maria Ausiliatrice, che da sempre governano l'Istituto Sacro Cuore, non abbandonino dopo oltre un secolo di presenza la città del Castello e di Filippo il Sirico. Le suore avrebbero deciso di serrare il portone per gli alti costi di gestione della struttura e per le poche, pochissime vocazioni. Motivazioni certe, palpabili, ma che sono piovute sulla comunità di Calatabbiano come un fulmine a ciel sereno. Tanto è stretto il rapporto tra la città e l'Istituto di formazione didattica e scolastica, ma anche professionale e dei mestieri. Per decenni le figlie di Maria Ausiliatrice sono stato un punto di riferimento certo, sicuro, per le generazioni di calatabianesi cresciute tra un'orazione e una lezione. Adesso alla notizia dell'abbandono mobilita l'impera calatabbiano che, attraverso una petizione di firme, la cui raccolta è partita oggi, chiederà all'ordine religioso di soprassedere su quella che sembra essere una decisione irrevocabile. Noi abbiamo avuto la nostra famiglia con le suore perché sono state veramente un punto di riferimento grande. Quindi se vanno via loro, parte del nostro cuore va con loro, perché non sappiamo proprio dove andare a morire. Sono un punto di riferimento per i consigli, per tutto, per i nostri figli. I nostri figli sono cresciuti lì. Calatabiano è un paese salesiano, le suore non possono andare via, non devono andare via. Oggi anche il palazzo di città ha aperto le porte ad un'assemblea cittadina alla quale hanno partecipato decine e decine di residenti parroci della città. Il sindaco che chiederà al vescovo di intervenire. Un'opportunità di cui Calatabiano non può assolutamente fare a meno. Ecco perché ce la metterò tutta con compostezza, ho invitato tutti ad agire con assoluta cordialità, con grande senso cibo, ma anche con grande vigore perché questo non deve mancare. Non posso immaginare che si guida un istituto e già credo che abbiano costituito tutto da questo punto di vista si sono determinati. Chiaro che non sarà una battaglia, io la chiamo così battaglia, ma non mi piace utilizzare questo termine difficile, ma immagino che con la dovuta accortezza, con il dovuto confronto e magari immaginando un percorso diverso tra amministrazione e le varie associazioni e le stesse suori di poter addivenire ad un compromesso che potrebbe essere quello di fare in modo che l'istituto non imputa, che le suore permangono qua, sono suore peraltro abbastanza anziane, ma che ancora hanno tanto da poter dare. E dare un nome a chi ha perso la vita per fuggire da guerre, fame e violenze è l'obiettivo da chi parte da Catania, prima comunità, da sottoscrivere un protocollo di intesa per le attività di Restoring Family Links, di congiungimento dei legami familiari avviati dalla Croce Rossa Italiana a siglare l'accordo a Palazzo degli Elefanti, è stato il sindaco Enzo Bianco con Stefano Principato, presidente del comitato catanese della Croce Rossa Italiana. E adesso occupiamoci del raduno dei delegati della Cannes di Serie C di calcio che si è tenuto a Catania nella sede della sezione arbitri. Importante appuntamento a Catania in occasione della riunione dei delegati della Cannes Pro svoltosi nei locali della sezione arbitri in Piazza Cavour, un importante momento di confronto che ha fatto registrare grandi interessi sugli argomenti trattati. Allora, stiamo facendo delle riunioni con tutti i delegati d'Italia e oggi abbiamo voluto farla apposta a Catania proprio per dare importanza ai delegati della Sicilia e della Calabria che oggi sono qui riuniti per ricevere diciamo delle informazioni e dei modus operandi da poter svolgere durante le partite che fanno fatte in Serie C per le varie squadre della Sicilia chiaramente. Qual è lo stato di salute di questo mondo? Allora, in questo momento si sta cercando di dare un salto di professionismo ancora più importante ai vari organi delle associazioni ma anche e soprattutto della Lega Pro che chiaramente è un organo di natura professionistica e quindi cerchiamo di migliorare quelle che sono le preparazioni dei nostri delegati che vanno nei vari campi a fare appunto i commissari di campo. Quello di oggi è un importante momento di confronto? Sicuramente sì, dopo qualche anno che queste riunioni non sono state fatte abbiamo avuto l'opportunità che la Lega abbia scelto anche Catania per fare una riunione per per i delegati della Lega Pro Sicilia e Calabria ed è l'occasione per poterci confrontare e crescere insieme nell'eventualità di un futuro compito che a noi ci spetta domenicalmente. Bene, la seconda edizione del nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi ricordo che potrete seguire questo TG sul nostro sito www.lettv.it e sulla nostra pagina ufficiale Facebook. Vi lascio come di consueto alle previsioni meteo e vi rinnovo la buona serata. Inizio di primavera particolarmente tormentato per quanto riguarda la nostra isola, annuvolamenti e schiarite nel Catanese, ampie precipitazioni in altre province siciliane. I mari sono mossi, le temperature 9 la minima, 19 la massima a Catania. Grazie a tutti. Grazie a tutti.